Sarà una gara ufficiale, quindi sarà partita vera, poi è ovvio che sarà una nuova storia rispetto a domenica e al di là della competizione ci tengo a vincere sempre. Roberto Taurino ha caricato a molla la sua Virtus Francavilla in vista della seconda sfida contro l'Andria, tre giorni dall'1-0 in campionato, firmato Tulissi, faremo la conta e sicuramente giocherà chi finora ha avuto meno spazio. E' stato anche il commento sulla possibile formazione che scenderà in campo alle 17.30, sicure le presenze di Milli in porta, Feltrin e Gianfrede in difesa, Delvino, Carella, Cecio, Amastropietro e Ingrosso a centrocampo, in attacco possibile chance dal primo minuto per Ecuban, con Tulissi che potrebbe mettere minuti nelle gambe, stesso discorso per Puntoriere, a cui il tecnico riserverà un buon spezzone di gara. Intanto la società in mattinata ha lanciato una mini campagna abbonamenti per i prossimi 5 eventi casalinghi, 500 italiani disponibili con 240 posti in curva sud, 150 in tribuna scoperta, 50 in tribuna coperta e 60 in quella VIP. Sarà possibile sottoscriverli nella sede di Via Quinto Egno dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.